I calcoli alla cistifellea o calcoli biliari sono un disturbo molto comune dopo una certa età. Si stima infatti che riguardino l'8% della popolazione dopo i 40 anni e in particolare siano frequenti in chi è in sovrappeso o obeso, nei pazienti con diabete mellito di tipo 2 o con valori del sangue non corretti come il colesterolo alto. Un'alimentazione troppo ricca di grassi, brusche perdite di peso e familiarità sono altri fattori che possono contribuire alla comparsa dei calcoli. Non tutte le persone che li hanno però se ne accorgono. Nella grande maggioranza dei casi infatti i calcoli alla colecisti non danno sintomi oppure danno sintomi generici come bruciore di stomaco, pesantezza e difficoltà nella digestione. Marco Klinger ha intervistato per il format tv medicina top prodotto da Little Press, Marco Montorsi, responsabile dell'unità operativa di chirurgia generale dell'istituto Humanitas di Rozzano. Nella grande maggioranza dei casi i calcoli sono o scoperti incidentalmente perché uno fa un'ecografia per un altro problema oppure perché hanno dei vaghissimi disturbi. Allora può essere seguita tranquillamente. Però uno deve sapere di essere in una situazione per cui magari quello potrebbe cambiare la situazione. Esattamente. Allora esattamente può mediamente diciamo dal 10 al 20 per cento è la probabilità che un paziente senza sintomi li abbia negli anni a seguire. Che sembra poca ma non è poca. Che sembra poco ma non è poca. Quindi come dire questa è la probabilità che poi può essere diversa se uno ha già avuto sintomi. I pazienti che invece hanno già avuto una colica e ne avranno altre successivamente beh quelli sono quelli che rappresentano l'indicazione chirurgica. Marco a proposito di nuove tecnologie che ormai le frontiere della medicina vanno sempre avanti si aprono sempre di più. In questa immagine che vediamo vediamo degli endoscopi di fatto. Le nuove frontiere per quanto riguarda la calcolosi della colecisti quali sono? Beh direi che ormai la colecistectomia la paroscopica che è quella che si vede lì che sono quindi fatta con questi piccoli strumenti che vengono introdotti per via percutanea sempre più piccoli infatti nella parte destra dell'addome del paziente vedete gli strumentini che sono due millimetri quindi estremamente piccoli è ormai diventata il gold standard. In Italia si fanno circa 100.000 colecistectomie laparoscopiche all'anno è un intervento sicuro con una degenza molto breve e una ripresa delle funzioni della paziente molto veloce però è un intervento chirurgico. Io sono un intervento molto breve a?" Grazie a tutti.